Vorrei porgere un saluto molto conciso, prima di lasciare spazio ai nostri ospiti, vorrei porgere un saluto alle autorità che questa sera ci onorano della loro presenza, quindi per il Comune di Pavia vorrei veramente ringraziare il nostro Sindaco Fabrizio Facassi, grazie di essere qui e Nicola Niutta, Presidente del Consiglio Comunale. Con particolare affetto vorrei salutare il nostro Sindaco, nel senso del Sindaco di Marciniago, che è il Comune dove la nostra azienda risiede, Lorenzo Barbieri, lo ringraziamo. Poi penso sia doveroso porgere un saluto e un ringraziamento a chi ci ospita, quindi al Rettore Alessandro Maranesi, Rettore del Collegio, che devo dire ha quest'Aula stupenda, e al Presidente dell'Associazione Alunni del Medesimo, l'Avvocato Emilio Girino, e a entrambi va un ringraziamento molto sentito perché devo dire che non solo ci hanno dato ospitalità, ma con noi hanno costruito un pochino questa lecture, è stato un cammino molto bello insieme. Poi vorrei salutare con l'affetto di sempre i tanti amici di Assolombarda che sono qui, sia quelli afferenti alla sede di Milano, sia quelli alla sede di Pavia, sia i colleghi imprenditori delle cariche, sia della struttura, sono veramente tanti e quindi non li saluto tutti, altrimenti Rampini non comincerà mai. Quindi mi permetto di salutare semplicemente Valeria Negri, in rappresentanza di Milano, responsabile dell'ufficio studi di Assolombarda e per chi c'era l'anno scorso anche partecipante alla lecture, come discussant a una tavola rotonda sui temi energetici e questa sera è qua come ospite. Per Pavia, i collaboratori di Assolombarda sono tanti, saluto il Presidente, il mio amico Nicola De Cardenas, Presidente della sede di Pavia di Assolombarda e Vice Presidente di Assolombarda. C'è poi circa un quarto del pubblico che afferisce all'università, studenti, docenti, persone in pensione che hanno lavorato in università, credo che comunque sia un buon dato e quindi li saluto coralmente, che penso sia una cosa molto bella e che ci sia una fetta così importante di università questa sera. Vorrei porgere anche un saluto ai miei collaboratori, che sono tanti, come sempre, che ci seguono in questo evento, sono persone a cui siamo ovviamente molto legati, sono persone molto capaci a cui dobbiamo molto, quindi sono felicissimo di salutarli tutti. Ne cito una, che è Francesca Stella, che ha lavorato all'organizzazione di questo evento in qualità di responsabile marketing, che è qua in sala. E ovviamente, ultimi ma non ultimi, vorrei salutare, brevissimamente introdurre, i due protagonisti di questa serata, e cioè Filippo Malinverno e Federico Rampini. Filippo Malinverno è una persona che ho avuto l'onore di conoscere, il piacere di conoscere nei mesi scorsi. È un consulente di Ambrosetti, che è una società molto prestigiosa di studi e ricerche, di consulenza strategica, ed egli ha un fortissimo know-how sui temi di questa lecture, e quindi sui temi del sud del mondo. E nel sud del mondo c'è anche stato molto recentemente, perché settimana scorsa era in Sudafrica, e quindi sono sicuro che questa sera, conversando con Federico Rampini, potrà dare un elemento di grandissima freschezza al tema che comunque conosce molto bene. Federico Rampini, penso che lo conosciamo tutti, lo leggiamo, l'abbiamo letto spesso, è un editorialista e un saggista di Primissimo Piano, continua a girare per il globo, per cui è difficile capire dove sia localizzato, ma stasera siamo felicissimi che sia qui. e mi fa piacere ricordare che nel 2018 fu da noi in azienda, in quella sede, per una lecture che piacque moltissimo e che penso alcuni di coloro che questa sera sono qua magari ricorderanno. Fu una lecture molto ben riuscita sui temi allora di contrasto tra Cina e Stati Uniti. la lecture si intitolava Le linee rosse, che era anche un frammento di un suo fortunato libro. E quindi sono contentissimo ovviamente che Federico sia qui questa sera e quindi gli daremo a breve la parola per tenere questa conferenza. Però credo che in grande sintesi sia anche giusto provare a rispondere a un paio di domande che io penso che qualcuno di voi si sia a posto. In primis perché qui? Dopo dieci anni di consolidata tradizione di questo evento in azienda, l'abbiamo fatto in forma privata su invito in azienda, quest'anno abbiamo pensato di farlo fuori dall'azienda, di farlo nella città che è ovviamente a noi più vicina per tanti motivi. La risposta è abbastanza semplice ed è legata alla chiamata che noi come impresa, ma anche altre imprese del territorio, hanno sentito in ragione di una fortunatissima occasione che è quella di Pavia Capitale della Cultura d'Impresa. un riconoscimento molto prestigioso a livello nazionale che Pavia ha vinto in seno al mondo confindustriale che porta le imprese a raccontare le migliori pratiche di cultura d'impresa e a condividerle il più possibile per evitare di tenerle al proprio interno. E quindi questo è lo spirito che ci ha calamitato qua, ci ha fatto pensare che fosse una bella idea a cercare di allargare il più possibile la platea, chiaramente noi in azienda non abbiamo un'aula così grande e chiaramente abbiamo una location che magari soprattutto per i più giovani, per gli studenti a cui comunque questo evento è piuttosto rivolto, poteva risultare più scomodo. Quindi l'abbiamo fatta qui e perché il Ghislieri? Il Ghislieri è un luogo che per Bruno Rossini è sacro e anche per la nostra famiglia c'è qui mia madre Adele Rimoldi che Bruno Rossini conobbe in collegio giusto appunto tra il 68 e il 72 ed è un luogo veramente ritenuto importantissimo da mio padre che ne ha sempre parlato con un'affezione profondissima e anche quando ne uscì continuò a collaborare come anche fanno molti alunni che peraltro questa sera sono anche qui presenti, egli collaborò nel direttivo degli alunni e anche negli ultimi anni prima della sua morte in seno al Consiglio di Amministrazione, quindi proprio in ragione di un'affezione molto forte, parte della quale è il motivo per cui siamo qua. Credo comunque che, e questa è una domanda che io mi faccio ogni anno e forse qualcuno di voi, qualche amico di papà, qualche collega imprenditore magari si fa, si pone e la domanda è ancora più basilare ed è perché? Perché fare tutto ciò? Perché organizzare un evento di questo tipo e io penso che al di là della voglia di ricordare una persona speciale che non c'è più, la risposta stia in due termini. Il primo è curiosità e il secondo è condivisione. la curiosità è una cosa che nell'attività di impresa è fondamentale, è una qualità imprescindibile per riuscire ma non solo nell'attività di impresa, credo in qualunque attività professionale e anche non professionale. È quella molla che ti dà quel qualcosa in più. curiosità fa rima con operosità, che è un termine imprenditorialmente molto rilevante e anche se non è affatto un sinonimo diretto di intelligenza io penso che i punti di contatto siano significativi. Potrei continuare ma insomma avete capito bene che penso che la capacità insomma nei giusti termini di trovare spazio per qualche cosa che vada oltre il proprio perimetro strettamente lavorativo e che possa consentire un circolo virtuoso di stimolo e di apprendimento sia qualcosa da celebrare e su cui dedicare risorse e tempo. E l'altro aspetto è la condivisione, cioè l'idea che partendo dal fatto che il business, l'attività di impresa resta una cosa molto semplice, molto basica. Mio padre scherzando tante volte in famiglia, se lo ricorderà mia madre, diceva ma il business è una cosa semplice, diceva I give you one thing, you give me one dollar. Fine. Denari, materie prime, prodotti finiti, servizi. Vero. Però forse c'è anche qualche cosina in più e secondo me questa sera lo percepite, c'è l'idea che qualche cosina trabocchi da questo scambio alla pari, cioè che ci sia uno spillover positivo, come direbbe qualche economista, per il quale caso per caso, impresa per impresa, organizzazione per organizzazione, però si possa provare a vedere se in questo scambio possa traboccare qualcosa verso la collettività. Noi abbiamo scelto di farlo con regolarità con un evento culturale, ci potrebbero essere altri modi di declinare questa idea, noi lo facciamo così e cerchiamo di farlo con regolarità e al meglio. Io vi ringrazio e chiamo il Rettore Maranesi per un ulteriore saluto. Grazie. Benvenuti a tutti in Ghislieri, autorità, cittadine, cittadini e studenti. Oggi non ascolteremo soltanto una interessante, ricca, aggiornata lezione da parte di uno dei più importanti giornalisti italiani, ma dal mio punto di vista interpretiamo, mettiamo in opera un metodo. Qualcuno di ben più autorevole di me, qualche tempo fa, pochi giorni fa, mi ha fatto presente che l'idea di multidisciplinarietà, che è uno dei sacri graal del sistema educativo di questo paese, non soltanto di questo paese, non va più concepito solo ed esclusivamente come il tentativo più o meno riuscito di mescolare discipline e competenze. Ma è semmai il tentativo, la speranza, la volontà di unire luoghi e istituzioni del sapere. E luoghi e istituzioni del sapere che si uniscono, che si mescolano, è proprio ciò che tenteremo di fare questa sera. Un grande, uno storico collegio universitario di merito, dei centri studi, degli intellettuali, un'impresa, tutti i luoghi fisici o dello spirito in cui oggi si crea conoscenza, si problematizza la conoscenza, si fa conoscenza. Una conoscenza che è spesso un modo di sapere, un modo di approfondire, un modo di creare che è appunto diverso, nuovo e che si accompagna e che va di pari passo a quelli che sono metodi più tradizionali, più chiusi. Questa è la multidisciplinarietà, come intendiamo affrontarla anche al Collegio Ghislieri. Ed è in questa prospettiva, in questa idea appunto che tanti e diversi attori, io non penso che in una grande multinazionale, in una piccola multinazionale, in una qualsiasi azienda oggi, temi come la geopolitica, come l'etica, non vengano considerati. Sarebbe impossibile. Come accade in qualsiasi grande dipartimento universitario, come accade in qualsiasi grande centro studi, come accade sulle colonne di qualsiasi grande quotidiano, giornale, magazine di tutto il mondo. Ecco, noi oggi interpretiamo un metodo, un metodo votato a, avvocato a questo modello di multidisciplinarietà. E lo facciamo, mi sento di dire, più ancora che in memoria, ma direi quasi in celebrazione, di quello che è stato un alunno del Collegio Ghislieri che ha incarnato fisicamente, materialmente, questo modo di vedere. Da questo punto di vista è stata una persona, Bruno Rossini, che ha non soltanto anticipato i tempi, ma ha costruito un metodo, creato un approccio alle cose, unendo una visione più speculativa che, apro e chiudo una parentesi tipica di ogni ghislieriano, con una capacità operosa e produttiva che gli ha permesso di creare non soltanto un'azienda, ma un approccio, un metodo, conoscenza in altri termini. Io non posso che, oltre a concludere questo mio intervento, che ringraziare la famiglia, penso soprattutto a Tommaso Rossini e ad Adele Rimoldi, cui in questi anni abbiamo creato e concepito una comunanza e una visione di idee, di vedute, che ha reso l'organizzazione di questo evento di questa sera non soltanto semplice e fruttuoso, ma mi sento di dire persino divertente. Ho l'impressione che con Tommaso Rossini condividiamo un certo senso dell'ironia e di visione sulle cose. E proprio per questo motivo ringrazio tutti voi, ringrazio naturalmente Federico Rampini e do la parola al Professor Mario Cera, Presidente della Fondazione Banca del Monte, che mi seguirà nel successivo intervento di saluto. Buonasera, ci sono varie ragioni per le quali io sono qui questa sera. La più importante, assolutamente più importante, è l'amicizia che mi legava a Bruno Rossini e l'amicizia che continua a legarmi a Bruno, a Tommaso e ad Adele. La seconda ragione, meno importante, molto meno importante, è che sono Presidente della Fondazione Banca del Monte Lombardia, come voi sapete istituzione civile molto importante in questa città, istituzione attenta ai fenomeni sociali ma anche imprenditoriali della città e istituzione che ha collaborato e ha anche favorito questa bella manifestazione di pavia capitale della cultura d'impresa e oggi è uno dei momenti in cui la Fondazione rivendica questo ruolo a favore della cultura d'impresa. La terza ragione, un pochino più importante di quella precedente, è che presso questo collegio chi vi parla ha voluto la costituzione del centro studi Guido Rossi, diritto delle grandi imprese. È un centro studi che è iniziato un paio d'anni fa, devo dire ormai apprezzato a livello nazionale per le sue iniziative, centro studi che ricorda un ghisleriano di eccellenza, Guido Rossi, noto a livello nazionale, ma noto non solo come giurista ma come cultore della cultura d'impresa. Non è un bisticcio di parole perché ci vuole una cultura per apprezzare la cultura d'impresa e la cultura d'impresa non è una cultura puramente economico-aziendalistica, ma è giuridica senz'altro ma è anche sociologica. E in questo Guido Rossi era davvero un maestro. Io sono altresì molto solleticato dal fatto di sentire Federico Rampini questa sera e di sentirlo, credo che parlerà in particolare di questo suo ultimo lavoro. Federico Rampini dal mio punto di vista più che giornalista è saggista, che è una cosa un po' diversa, almeno ai miei occhi. E in questo lavoro di Federico Rampini ho colto due punti che mi piacerebbe segnalare a tutti, ma mi piacerebbe anche che Federico Rampini eventualmente, se avesse un minuto, potesse dire la sua. Uno è quando lui dice che l'Africa, perché si parla di Africa, è anche la culla di una nuova imprenditorialità con successi importanti. Ebbene, io sono da tempo convinto che le imprese, il fare impresa, costituisce uno dei fattori di progresso, non solo economico, ma civile. Pensate a quello che era l'Italia nell'Ottocento, cosa sarebbe stata l'Italia senza l'impresa della seconda metà dell'Ottocento, cosa sarebbe stata l'Italia senza le imprese dopo il secondo conflitto mondiale. Io quindi spero molto che quello che scrive Federico Rampini abbia un seguito, cioè che l'Africa abbia delle imprenditorialità, perché forse, dico forse, è l'unico modo perché l'Africa possa fare quei salti avanti che tutti per tante ragioni ci auguriamo. L'altra cosa che avevo annotato è, a un certo punto, Federico Rampini dice che oggi, leggo testualmente così, un imprenditore come Enrico Mattei avrebbe spazio in Italia. dice poco probabile che un imprenditore come Enrico Mattei. Ecco, Enrico Mattei viene quindi qualificato come imprenditore ed è giusto, corretto, ma l'impresa di Enrico Mattei, ricordiamoci, era un'impresa pubblica. Quindi è possibile anche svolgere, esercitare attività di impresa importanti, importantissime come Stato ed è tuttora, ed è tuttora l'Eni, anche attraverso la presenza nell'impresa dello Stato. Dico questo perché quando sento parlare di Piano Mattei, forse anche un po' indebitamente, perché tutti noi sappiamo qual era la radice di Enrico Mattei, mi chiedo, ma noi, Europa, potremmo forse favorire l'Africa favorendo degli Enrico Mattei in Africa? È una domanda che mi balena per la mente e non so se Federico Rampini riuscirà a dare, non dico una risposta, ma insomma una qualche soddisfazione. Grazie a Bruno, grazie anche ad Adele perché è presente, non posso dimenticare i rapporti e mi auguro che questa serata sia all'altezza di Bruno Rossini, del Ghislieri, di Pavia e se mi è consentito anche del Centro Studi e quindi di Guido Rossi. Grazie, buona serata. Ecco funziona, buonasera a tutti, sono Filippo Manimeno di Ambrosetti e ho il piacere di invitare sul palco Federico Rampini al podio per il suo intervento. Innanzitutto un sentito grazie a Tommaso Rossini e al Rettore Amaranesi per questo invito meravigliissimo in una cornice così spettacolare come quella del collegio. Federico Rampini, lo è stato detto anche nei saluti introduttivi, saggista, editorialista del Corriere della Sera e per tantissimi anni corrispondente per la Repubblica da New York, da Pechino e da tante altre destinazioni e quindi grande osservatore delle dinamiche internazionali di un mondo che continua a cambiare. Federico, sei cresciuto professionalmente in un mondo bipolare quando c'era la dialettica diciamo sovietica e statunitense, hai osservato da vicino il passaggio dal bipolarismo all'unipolarismo fino ad arrivare ai giorni nostri in un contesto internazionale che sembra passare sempre più evidentemente da un unipolarismo a guida americana ad un multipolarismo frammentato di cui non si capisce bene ancora l'entità e soprattutto non si intuiscono ancora bene le conseguenze. Dunque chi meglio di te per aiutarci a navigare in questo nuovo contesto? Un contesto in cui il Global South, il cosiddetto Sud globale, gioca un ruolo fondamentale. India, sicuramente ovviamente la Cina da tanti già anni, Brasile, Sud Africa, molti paesi che si stanno affacciando sempre più potentemente come attori protagonisti di questo nuovo ordine internazionale, ma anche qua dobbiamo capire bene quali sono le prerogative di questo Global South, quali sono soprattutto gli interessi, ci sono degli interessi in comune, ogni paese segue i propri interessi in modo strategico. Dunque inizierei a fare questa domanda prima o poi di passare alla tua lecture e poi a una serie di domande anche da parte del pubblico perché sarete anche voi i protagonisti di questa sera perché è sempre bello favorire una dialettica, un dialogo tra il relatore e il pubblico. Dove inizia per l'Europa e per l'Italia, il Sud globale? Il Sud globale per l'Italia, per l'Europa, anzi il grande Sud globale comincia nello stretto di Sicilia, appena attraversiamo il Mediterraneo, è lì che inizia. È un concetto geopolitico, non geografico, tant'è vero che tu nel elencare alcuni dei componenti di questo grande Sud globale hai citato la Cina e l'India, due grandi nazioni che sono tutte e due a nord dell'Equatore, ma anche il Maghreb, anche il Medio Oriente sono a nord dell'Equatore, quindi quando diciamo Grande Sud evidentemente evochiamo qualcos'altro. Loro si percepiscono, dico loro perché c'è un senso di comunanza nei paesi che appartengono a questa grandissima comunità, poi vi farò anche un po' la storia di questo concetto, ma loro si sentono emergenti, ancora diciamo in una fase di sviluppo, di rincorsa e quindi uno dei primi modi con cui si definiscono i paesi del grande Sud globale è in confronto a noi. Tutto ciò che li caratterizza è una differenza rispetto a un nord che è il vecchio mondo industrializzato, i vecchi ricchi. E quindi già nel dire, nel pronunciare queste parole sto già dando l'idea di una corrente a volte sotterranea, a volte molto esplicita di ostilità. Molto spesso il denominatore comune del grande Sud globale è che ce l'hanno con noi. È una certa ostilità verso l'Occidente, poi l'Occidente non è solo Occidente perché nel nord ricco c'è il Giappone, la Corea, l'Australia che pure è estremo Sud, ma insomma però sostanzialmente Stati Uniti e Europa. E quindi anche tutto il tema dell'anticolonialismo, la memoria del tempo coloniale, con tutte le distorsioni, strumentalizzazioni e manipolazioni di questo tema dell'anticolonialismo. Oggi mi capitava di leggere, visto che abbiamo in comune una frequentazione per me più recente della tua, del Sudafrica, mi capitava di leggere una cosa che mi ha fatto sobbalzare, un giornale sudafricano che commentava una recente conferenza internazionale che ha unito paesi africani e Turchia. E una delle prime notazioni era, siamo così vicini anche perché la Turchia non è mai stata imperialista. Oibo, oibo, cancellato l'impero ottomano dalla storia. Ma è così che ragionano. Cioè la storia vera è un'altra cosa. La storia vera è un'altra cosa. Di imperi ce ne sono stati molti altri e qualche volta direi senza esitazione peggiori dei nostri. Però gli unici imperi che si ricordano sono gli imperi dell'uomo bianco. E non importa se c'è stato un impero arabo. Perfino un tema che viene fuori adesso quando purtroppo tragicamente, in queste ore tragiche, in cui riesplode il Medio Oriente, si sente parlare da parte di vaste parti del mondo arabo palestinesi, ma non solo palestinesi, del fatto che lo Stato di Israele sarebbe il frutto di una occupazione, di una sorta di colonizzazione di territori, come se quello fosse uno specifico, in quel luogo del mondo uno specifico di Israele. Quando in realtà gli arabi sono sempre stati fierissimi di aver colonizzato vaste parti del mondo. L'impero arabo è un impero che con i soldati da una parte, i missionari dall'altra, che spesso erano la stessa cosa, ha soggiogato una zona del mondo che andava dall'Atlantico, il Marocco, fino all'Indonesia, nel Pacifico. Fieri di averlo fatto, fieri di essere una religione combattente e conquistatrice. Oggi tutto questo viene dimenticato. Voglio ritornare un po' al presente, perché prima di affrontare altre zone del Grande Sud, come l'Africa, a cui ho dedicato questo libro ultimo mio, La Speranza Africana, in questo momento, in queste ore, la parte del Grande Sud globale che ci sta più a cuore o che ci sta più angosciando, spaventando, è il Medio Oriente e voglio solo ripercorrere velocemente il contesto, il contesto in cui questa terribile guerra è esplosa. È un contesto in cui Israele era molto, molto meno isolato che per gran parte della sua storia, la sua storia breve. Lo Stato di Israele moderno nasce nel 1947 ed è stato quasi sempre circondato, accerchiato da una massa di vicini ostili o addirittura votati alla sua distruzione. Questo quadro era molto cambiato di recente. C'erano stati gli accordi di Abramo sotto la presidenza di Donald Trump. La diplomazia americana era stata decisiva per gli accordi di Abramo. Gli accordi di Abramo sono quelli che hanno portato al riconoscimento dello Stato di Israele da parte di quattro paesi islamici di quell'area, dal Marocco, prima di tutto gli Emirati Arabi Uniti, il Golfo Persico, Bahrain, il Marocco e il Sudan. Quattro Stati, tutti i membri della Lega Araba, che è stato quasi un ripetersi di un altro evento molto importante di 50 anni fa, c'era stata la guerra dello Yom Kippur, la prima grande crisi energetica, 1973. Quella guerra era stata terribile. Israele aveva rischiato seriamente di perderla, era stato preso di sorpresa da una offensiva di una coalizione araba molto, molto vasta. Quella era l'epoca in cui veramente Israele aveva solo nemici. Ma una delle conseguenze di quella guerra in realtà fu che in seguito l'Egitto decise di riconoscere Israele con il presidente Sadat. Quindi degli accordi di Abramo del 2020 è stata un'altra avanzata verso un Medio Oriente molto, molto diverso, segnato da un processo di distensione, di pacificazione. In un certo senso è stata una sorta di contro-rivoluzione rispetto all'anno più terribile di quella parte del mondo che era il 1979. 1979 è un anno da studiare continuamente per l'addensarsi di eventi tremendi, la vittoria della rivoluzione comunista in Iran, un evento di cui paghiamo le conseguenze tuttora. E quindi l'affermarsi di una teocrazia sciita. Nello stesso anno un attacco terroristico molto grave che tutti noi abbiamo dimenticato alla grande moschea della Mecca in cui il terrore per la monarchia saudita fu che quello fosse l'inizio di un processo simile a quello dell'Iran e che quindi la monarchia saudita potesse fare la fine dello Shah di Persia, quello che era stato rovesciato dalla rivoluzione degli Ayatollah in Iran. La reazione della monarchia saudita a quella minaccia del 79 è un'alleanza con il clero wahhabita, la parte più reazionaria, più oscurantista del clero sunnita dell'Arabia Saudita. Un'alleanza che riporta indietro nella storia l'Arabia Saudita. Adesso bisogna andare a cercare le prove di quello che sto per dirvi, ma ci sono. Prima del 79 l'Arabia Saudita era un paese molto laico, dove le donne andavano all'università e non necessariamente si mettevano il velo. Molto più moderno, molto più occidentale di quello che è diventato negli anni successivi. Il 79 è un anno importantissimo perché da quel momento parte una specie di gara perversa tra le due potenze del golfo, Iran e Arabia Saudita, a chi è più forte dell'altro nell'alimentare, nel diffondere una predicazione fanatica, fondamentalista, una versione guerriera dell'Islam. E quindi cominciano, avevamo avuto nel frattempo ben due shock petroliferi, quello del 73 e quello della rivoluzione comunista, anche quello aveva contribuito a fare schizzare al rialzo i prezzi delle energie fossili. Quindi un gigantesco trasferimento di risorse da nord a sud, quel sud, quel sud in particolare del Medio Oriente, del mondo arabo, del Nord Africa, del Golfo. Questo immenso trasferimento di ricchezze non era stato messo a frutto, a beneficio dei popoli di quell'area. Il terribile scandalo di quell'epoca è che un fiume di petrodollari scompare nel deserto, o meglio, scompare nei conti svizzeri dei vari oligarchi, degli sceicchi, delle classi dirigenti più rapaci, corrotte e incapaci del pianeta. Pensate che sarebbe stato, se avessero investito quelle risorse per l'istruzione, la ricerca scientifica, l'innovazione tecnologica, lo sviluppo economico, che cosa poteva essere già negli anni Ottanta, il Medio Oriente. Pensate che all'epoca dell'indipendenza dai colonialismi, Singapore era più povera di molti stati africani, la Corea del Sud era più povera della Libia e della Tunisia. Se questi paesi del Medio Oriente, i paesi del petrolio avessero replicato i miracoli dei dragoni asiatici, vivremo in un mondo diverso. Invece c'è stato quel fallimento e quel fallimento le classi dirigenti locali hanno tentato di occultarlo dirottando la rabbia dei loro popoli contro l'Occidente. E' cominciata quella gara perversa che dicevo tra Iran e Arabia Saudita, ha avuto tra le sue componenti il finanziamento di moschee e madrasse fondamentaliste nel mondo intero, che predicavano la jihad, l'odio, la violenza. Ma questo periodo della storia così drammatico che ha avuto dei culmini per esempio nell'11 settembre 2001, si stava chiudendo sotto i nostri occhi fino a due settimane fa. Stava accadendo un ripensamento. Alcune classi dirigenti di quel mondo arabo volevano aprire un capitolo diverso della loro storia. Personaggi che non necessariamente piacciono a noi, come il principe saudita Mohammed bin Salman, di cui ovviamente ricordiamo tutti che sotto la sua guida, non necessariamente per ordine suo, ma sotto la sua guida è stato maciullato letteralmente un giornalista d'opposizione. E' un autocrate, è un monarca, non ha nessuna intenzione di trasformare l'Arabia Saudita in una democrazia, però insegue un esperimento udace di modernizzazione e laicizzazione. Mohammed bin Salman in Arabia Saudita sta spezzando quell'alleanza perversa con il clero wahhabita che era nata nel 79. Il modello è Dubai, non so se qualcuno di voi è stato a Dubai, è uno dei nuovi poli della modernità che bisogna visitare per capire dove sta andando quel mondo. Dubai è una città dove l'Islam è quasi inesistente, è quasi invisibile. Le donne si vestono esattamente come voi, hanno quasi tutti i diritti che hanno le donne occidentali, è una città dove il 90% delle persone, dei residenti sono stranieri ed è un polo di modernizzazione e di sviluppo economico che prescinde dal petrolio. Dubai ne ha pochissimo di petrolio, in compenso sta diventando uno dei poli mondiali più avanzati della logistica, della finanza, perfino del turismo. L'Arabia Saudita vuol diventare una cosa simile e al tempo stesso guarda a Israele non più come al nemico da abbattere, ma come a un modello. Lo stato di quella zona che meglio di ogni altro ha vinto la scommessa dello sviluppo economico, scientifico, tecnologico, educativo, naturalmente anche democrazia, questo interessa meno l'aspetto democratico di Israele. Però c'è un arco di classi dirigenti del mondo arabo che dal Golfo Persico, Emirati, Arabia Saudita fino al Marocco, altro paese interessante perché è una delle migliori economie di tutta l'Africa, il Marocco, stava chiudendo un capitolo sanguinoso e fallimentare della storia per aprirne uno diverso e uno dei simboli di questa nuova epoca doveva essere il riconoscimento diplomatico di Israele da parte dell'Arabia Saudita. La ragione per cui è scoppiata questa guerra è che bisogna impedirlo. L'Iran vuole impedirlo. L'Iran naturalmente da una alleanza tra Arabia Saudita e Israele si sentirebbe isolato e in difficoltà e quindi non ha esitato a sostenere e alimentare l'offensiva di Hamas. Ora concludo su questo breve spaccato di attualità su chi vince e chi perde in questa fase. L'Iran è sicuramente il grande vincitore di questa tragedia che si sta svolgendo da dieci giorni sotto i nostri occhi. La Russia che ha un'alleanza stretta con l'Iran ci guadagna su due fronti perché dirotta l'attenzione strategica e una parte delle risorse militari dell'America dall'Ucraina verso Israele e poi se questa guerra dovesse sfociare anche in tensioni rilevanti sui mercati dell'energia fossile, naturalmente se sale il prezzo del petrolio anche la Russia ci guadagnerà. La Russia non vende più petrolio a noi o quasi niente ma continua a venderlo a tante altre parti del mondo che non applicano le sanzioni e quindi sarà anche un guadagno economico. La Cina è in una posizione un po' più ambigua perché la Cina essendo il primo importatore mondiale di energie fossili, petrolio, gas naturale ha interesse alla stabilità del Medio Oriente e del Golfo Persico. Quindi quello che sta accadendo in una certa misura la preoccupa e può danneggiarla, però anche la Cina ha un guadagno strategico fondamentale di lungo termine. Ancora una volta l'America risucchiata da una crisi medio orientale Biden in queste ore a Tel Aviv è un'America che si occupa meno di quello che la Cina sta facendo in Estremo Oriente. Chi perde? Gli Stati Uniti subiscono questa fatale attrazione verso il Medio Oriente da cui disperatamente cercano di liberarsi. Il 2001 era stato per molti analisti della storia americana, un grave errore, il modo in cui gli attentati dell'11 settembre 2001 avevano costretto l'America a occuparsi di Medio Oriente e avevano fatto perdere anni preziosi per l'unica sfida che conta che è la sfida con la Cina. E adesso siamo da capo, una fase in cui l'America è costretta a ritornare al suo passato e a occuparsi di zone del mondo dove non ha più interessi veramente prioritari. Vi ricordo tra l'altro a proposito degli interessi prioritari dell'America che è indipendente dal punto di vista energetico. L'America da molti anni ha smesso di importare petrolio arabo, non ne ha più bisogno, ce l'ha in casa. La rivoluzione tecnologica dello shale gas è un paese che ha questo straordinario privilegio dell'autosufficienza energetica, però il Medio Oriente rimane fondamentale per tutti i suoi alleati, cioè gli europei, il Giappone, la Corea. L'Unione Europea per concludere è il perdente in assoluto, è una zona del mondo fragile, dipendente e vulnerabile dal punto di vista energetico e in più, e ne abbiamo visto già qualche conferma negli ultimi giorni, in più l'Europa ha una particolare vulnerabilità aggiuntiva, sono delle comunità di immigrati islamici che facilmente possono essere preda di propaganda islamista, prendere delle posizioni che sono antitetiche a quelle dei governi europei. Quindi c'è nel cuore dell'Europa una componente che può, lo abbiamo visto in certe manifestazioni, quella per esempio gigantesca per le vie di Londra di pochi giorni fa, può tifare apertamente per Hamas. inserisco questo in uno scenario più largo, che deve cominciare nel 1989-91, caduta del muro di Berlino, dissoluzione dell'Unione Sovietica, fine del blocco comunista, almeno quello sovietico e dell'est europeo e una Cina che negli stessi anni si avvia a diventare capitalista, un'economia di mercato. Quella è una fase in cui noi, noi occidentali, ci illudiamo che attraverso due motori di cambiamento, il commercio, le relazioni economiche tra nazioni e qualche anno dopo Internet, avremmo determinato la fine della storia, così la chiamò un analista, uno scienziato della politica americana, Francis Fukuyama. Fine della storia nel senso, Francis Fukuyama che ha un cognome giapponese, ma è a tutti gli effetti americano, è nata a Chicago, è stato vilipeso e caricaturalizzato, è in realtà un fine pensatore, non ha mai sostenuto che la storia fosse finita, era un'immagine, un titolo per fare marketing di un libro di grande successo che voleva dire che la storia era arrivata a uno snodo decisivo in cui esisteva ormai un solo modello valido per tutti, e cioè la combinazione tra liberal democrazia e economia di mercato. Quel modello lì si era dimostrato superiore a tutti gli altri con il crollo del comunismo e quindi in questo senso la fine della storia, la fine di una storia di competizione, scontro e sfida tra modelli alternativi. E fu anche, questo coincise anche con il cosiddetto momento unipolare del mondo in cui c'era praticamente una sola superpotenza sopravvissuta alla guerra fredda, alla prima guerra fredda, gli Stati Uniti ed America. Era un'illusione, era un'illusione perché non capimmo all'epoca che gli altri non erano d'accordo, non condividevano quella visione. Putin appena ha potuto, appena le circostanze e i rapporti di forza gliel'hanno consentito, ha rispolverato il manuale dello zar. La storia della Russia, dello zarismo, poggia su due pilastri, imperialismo e assolutismo. L'imperialismo si nutre anche di quella particolare forma di paranoia per cui la Russia si è sempre sentita accerchiata da nemici e ha sempre reagito invadendo i propri nemici. E così è diventata la nazione più vasta come superficie territoriale di tutto il pianeta. E questa inevitabile militarizzazione di una società imperialista e espansionista ha consentito di consolidare l'assolutismo, regimi dispotici autoritari. I comunisti cinesi non hanno mai creduto o voluto che finisse la guerra fredda, hanno soltanto voluto guadagnare tempo e non hanno mai certamente voluto diventare come noi, non c'è mai stato in modo serio e solido un progetto dentro il partito comunista cinese di un'evoluzione verso la democrazia. Questa loro alterità rispetto a questo loro antagonismo che era sempre implicito nei nostri confronti è ritornato a manifestarsi in modo più visibile, più appariscente con la crisi finanziaria del 2008. Quando noi siamo sprofondati in seguito alla crack dei mutui subprime a Wall Street, siamo sprofondati noi occidentali nella recessione più grave dalla grande depressione degli anni 30, la Cina è stata l'unica grande economia al mondo che è riuscita a salvarsi da quella recessione, non è caduta in recessione come tutti noi. E ci è riuscita, riesumando le leve tradizionali del suo comando economico, dirigismo, statalismo, le grandi imprese del capitalismo pubblico, che in Cina è un po' diverso dal capitalismo dei Mattei all'italiano. In quel momento, il 2008 è stato un anno in un certo senso di una epifania, una sorta di rivelazione per i dirigenti comunisti cinesi che si sono detti ce l'abbiamo fatta. Abbiamo le prove che il nostro sistema è superiore a quello occidentale, è più solido, più stabile, più decisionista, più governabile e hanno cominciato anche a dirlo apertamente. Mentre prima erano più prudenti, erano confucianamente modesti, hanno cominciato a proclamare la propria superiorità. Poi, quattro anni dopo, 2012, arriva al potere Xi Jinping e lì veramente la leadership comunista cinese getta la maschera. Con Xi Jinping c'è un ritorno chiaro a un socialismo, non il vecchio socialismo di Mao Zedong. Mao Zedong era morto nel 1976, sotto di lui c'era stato una specie di comunismo di guerra, di guerra nel senso delle privazioni, dell'egualitarismo estremo, fino a carestie di massa. La Cina di Xi Jinping è un animale molto più complesso, è un animale ibrido, rimane anche una grande economia capitalista, con fior di miliardari quotati in borsa, però con Xi Jinping, guardate per esempio alle sue campagne contro la corruzione, che hanno cominciato a castigare sistematicamente non solo i suoi avversari politici, sono state anche un modo per eliminare tanti rivali all'interno del suo partito, ma anche per tagliare la cresta a tanti capitalisti, mettere paura all'imprenditoria privata. C'è stato un attacco evidente, esplicito ai capitalisti del digitale, di big tech, con personaggi come Jack Ma di Alibaba, l'equivalente di Jeff Bezos di Amazon negli Stati Uniti. Con Xi Jinping c'è un ritorno all'affermazione del primato assoluto del Partito Comunista, che è quello che deve comandare. Deve essere chiaro, i ricchi rimangono ricchi, magari un po' meno, o un po' meno visibilmente opulenti, ma deve essere chiaro chi comanda in quel paese, e sta tornando molto chiaro. E c'è anche un clima di ostilità nei confronti delle imprese occidentali. Soprattutto le grandi imprese occidentali che lavorano in Cina percepiscono un'atmosfera più difficile, più ostile, forme di protezionismo sempre più spinte. Questo quindi spiega anche perché l'escalation di rivalità, conflittualità, antagonismi tra Cina e Stati Uniti non nasce di colpo con Donald Trump e la sua guerra dei Dazi. Quello è stato un episodio di un crescente antagonismo che era già cominciato da parte cinese molti anni prima. Vengo a una definizione di quello che mi sembra l'Unione Europea di oggi. L'Unione Europea si sta cercando di svegliare da 30 anni di letargo geopolitico, un periodo di ibernazione del pensiero geopolitico, in cui si era illusa di essere la prima superpotenza erbivora nella storia umana. Una superpotenza capace di irradiare un'influenza internazionale solo ed esclusivamente grazie al proprio alto livello di civiltà, diritti, welfare, educazione, istruzione. Tutte cose profondamente buone e positive ammirevoli, meravigliose, ma che prescindevano dalla dimensione dei rapporti di forze. È una superpotenza erbivora, che si illude di poter essere erbivora, quindi prescinde dalla questione della sicurezza delle forze armate. Quando si scopre circondata di superpotenze carnivore, improvvisamente è in serie difficoltà. E le superpotenze carnivore sono tante intorno. Evocavo prima gli imperi antichi. L'Europa è letteralmente circondata di imperi. Quello russo lo vediamo in azione, ha una memoria imperiale che è riaffiorata alla superficie. ma sono tanti i casi di imperi antichi che è come se dalle carte geografiche vedessero riemergere nelle profondità, nelle viscere della terra il loro passato e quelle che erano state le frontiere antiche della loro espansione imperiale. L'impero persiano, l'Iran, che agisce come un vero impero attraverso milizie terroristiche, gli Hezbollah in Libano, in Siria, Hamas nella striscia di Gaza, guerriglieri nello Yemen. L'impero arabo che con il principe MBS, Mohammed bin Salman, torna ad avere ambizioni globali. È uno dei maggiori investitori in Africa, l'Arabia Saudita. L'impero ottomano con gli Erdogan. Queste sono le realtà, le brutali realtà che circondano l'Europa. Un'Europa che ha disinvestito dalla seconda guerra mondiale di fatto, dall'elemento militare, vissuta come una parassita sotto l'ombrello di sicurezza degli americani. E poi questa Europa ha un problema aggiuntivo in questa fase che è la crisi esistenziale della Germania. La Germania era rinata negli anni 90 dopo un periodo di difficoltà. Ce lo sono dimenticati quasi tutti, ma all'inizio degli anni 90 con la riunificazione tedesca la Germania era in gravi difficoltà. Ci fu una famosa copertina del settimanale The Economist che era sulla Germania definita The Sick Man of Europe, il malato d'Europa. Si è salvata con delle riforme audaci come la riforma del welfare state promossa dal cancelliere Gerhard Schroeder. E poi però due fattori fondamentali per quello che fu negli anni 90 il secondo miracolo economico tedesco dopo il primo miracolo del dopoguerra, gas russo a buon mercato e mercato cinese spalancato. Quel mondo lì non esiste più. La Germania sta vivendo una crisi esistenziale, una crisi di vocazione. Il modello tedesco deve ridefinirsi completamente ed è un problema che riguarda tutta l'Europa perché è l'economia, è la nazione più grande, più ricca d'Europa e il motore d'Europa se il motore d'Europa si ferma tutti ne soffrono. In più questa Europa è dilaniata tra tensioni divaricanti perché da una parte un effetto della guerra in Ucraina è stato quello di spostare il baricentro geostrategico verso nord-est. Polonia, paesi baltici, i nuovi membri della NATO, Svezia e Finlandia. C'è stato un effetto di trascinamento a nord-est del centro strategico, del cuore strategico dell'Europa, ma dall'altra parte c'è invece tutto il tema del grande sud globale, la sponda sud, cioè l'Italia, che ha necessità, ma come altri paesi, di tornare a guardare verso sud per energia fossile e anche rinnovabile, materie prime come i metalli rari e le terre rare essenziali per la transizione a un'economia più sostenibile, tutte quelle materie prime che sono necessarie per le batterie delle auto elettriche o dei pannelli solari e naturalmente controllo di flussi migratori. Quindi un'Europa in una fase di grande difficoltà. Torno dove ero partito, grande sud globale. L'India in quel mondo è il paese al tempo stesso più importante e più interessante, prescindo un attimo dalla Cina, perché la Cina è membro del grande sud globale in modo un po' surrettizio, è in realtà una superpotenza economica, ma l'India è molto più interessante perché è ancora in una fase, giusto definire la nazione emergente dal punto di vista economico, ma si sta candidando letteralmente a diventare la nuova Cina, poiché ha un rapporto politico molto più disteso, amichevole con l'Occidente, in particolare con gli Stati Uniti, l'India sta cercando di essere la meta privilegiata di una rilocalizzazione di investimenti occidentali. Sta accadendo, un esempio fra tanti di un'azienda icona del nostro tempo, la Apple, sta spostando, era in una situazione fino a poco tempo fa in cui l'80% degli iPhone e degli iPad li produceva, li assemblava in Cina. Si è dato adesso come obiettivo quello di spostare almeno il 40% della sua produzione tra Vietnam e soprattutto India. È il cosiddetto processo di friend-shoring, rilocalizzazione in paesi amici, che non ci procaccino gli stessi problemi che la Cina ci ha creato durante la pandemia e che potrebbe crearci in occasione di altre tensioni geopolitiche, che vedi l'invasione di Taiwan. Quindi c'è questa fase in cui stiamo, soprattutto le imprese, grandi ma anche medio-piccole, stanno ridisegnando le regole del gioco della globalizzazione. Non è che la globalizzazione sia finita, però le mappe geografiche della globalizzazione stanno cambiando abbastanza rapidamente. È una globalizzazione che fino a dieci anni fa era quasi esclusivamente guidata, trainata da criteri economici. Andiamo a produrre laddove è più competitivo produrre, quindi calcolando costo del lavoro, normative ambientali, diritti sindacali, una delocalizzazione trainata soprattutto da una logica di bilancio. Adesso invece nella nuova globalizzazione l'imperativo della sicurezza diventa una delle logiche più stringenti. Andiamo in paesi dei quali possiamo fidarci che non ci sarà una guerra con loro, per dirlo nel modo più brutale possibile. Quindi l'India è uno degli attori decisamente più interessanti del grande sud globale. Ha al tempo stesso questa capacità di avere un buon rapporto con l'Occidente, di candidarsi a diventare la nuova Cina per noi, ma anche una straordinaria autonomia. Non applica le nostre sanzioni contro la Russia, per esempio. Ritiene che non sia nel suo interesse. Per una serie di motivi anche storici legati alla sua storia. L'India è stata molto vicina all'Unione Sovietica durante l'epoca del comunismo, anche se non era comunista, però aveva dei rapporti stretti. Forniture militari. Quindi l'India è già uno dei modi per avvicinarci al grande sud globale e osservare questo strano animale che è l'India, come si comporta. Come riesce ad avere al tempo stesso un buon rapporto con noi, ma non vuole schiacciarsi, allinearsi con l'Occidente. Il Golfo Persico è altrettanto interessante, perché anche lì abbiamo l'Arabia Saudita, è un altro paese che ha una visione imperiale di se stesso e quindi molto autonoma, molto indipendente. Era sul punto, fino a dieci giorni fa, fino a qui. L'Arabia Saudita è un altro paese che non applica sanzioni alla Russia, anzi ha creato una vera e propria partnership con la Russia in seno all'OPEC, il cartello oligopolistico dei produttori di petrolio. Quindi gioca su tutti i tavoli. Questa è una delle caratteristiche di alcune di queste potenze del grande sud, è di giocare su tutti i tavoli, con molto opportunismo. Vedete, bisogna fare un breve salto all'indietro. L'anno 1955, è un lungo salto all'indietro. Non ero nato neanche io, quindi praticamente preistoria. 1955, nella conferenza internazionale di Bandung, in Indonesia, fu dato a battesimo il movimento dei paesi non allineati. Eravamo nel cuore della guerra fredda, tra blocco occidentale, America e i suoi alleati, blocco comunista, Unione Sovietica e i suoi alleati. Quella conferenza di Bandung crea un terzo blocco, che infatti si chiama Terzo Mondo all'epoca. E Terzo Mondo per noi divenne sinonimo di povertà, perché la stragrande maggioranza di quei paesi africani, asiatici, latinoamericani, erano effettivamente paesi sottosviluppati o in via di sviluppo. Quindi Terzo mondo divenne, come dire, paesi poveri. In realtà letteralmente voleva dire un mondo che non sta né con l'una né con l'altra parte. Era quello il senso dei non allineati. Però è interessante il paragone con quello che è oggi, il movimento dei non allineati versione 2023, che sta rinascendo. È una cosa molto simile a quella che vediamo oggi. tutti questi paesi del grande sud globale che non vogliono prendere posizione esplicitamente e dire se stanno con l'America o con la Russia o con la Cina. Nel 1955 a Bandung in realtà erano non allineati, si definivano non allineati, ma simpatizzavano molto col socialismo sovietico. molto. Tra quei paesi non allineati c'erano l'India di Indira Gandhi, all'epoca c'era ancora il papà di Indira Gandhi, Nehru. L'India di Nehru, molto attirata dal modello socialista sovietico. La Jugoslavia di Tito. Quindi erano paesi che simpatizzavano con una delle parti, anche se non prendevano posizione. E oggi siamo in una situazione molto simile. In queste ore, mentre Biden sta visitando Israele per portare il suo appoggio a Israele, si svolge a Pechino un vertice che celebra il decimo anniversario delle nuove vie della seta. Quel programma titanico di investimenti in grandi opere infrastrutturali. Mille miliardi di investimenti cinesi per allargare i tentacoli di infrastrutture che legano grandi parti del mondo alla Cina. Si è parlato dell'incontro tra Xi Jinping e Putin, ma non è un vertice bilaterale. E lì in questo momento ci sono fiore di leader da altri paesi asiatici, gran parte dell'Africa, America Latina. È il movimento dei non allineati che però va alla corte dell'imperatore cinese e subisce molto l'attrazione di questa Cina. Un altro di quei paesi che riescono in un capolavoro diplomatico, politico, propagandistico, strategico, di presentarsi come paladini degli emergenti, paladini del grande sud, difensori degli oppressi, solidali contro gli unici imperialisti che siamo noi. E questo è un problema che ci perseguita e col quale noi dovremmo fare i conti e che dovremmo affrontare in modo molto più lucido e anche, io oserei dire, anche molto più aggressivo di quanto abbiamo fatto finora. La Cina passa per essere una di loro, anche se per esempio gli effetti delle nuove vie della seta, tra gli effetti delle nuove vie della seta c'è il fatto che la Cina è diventata la banchiera di molti paesi africani, asiatici, latinoamericani ed è una banchiera esosa, molto più cattiva del Fondo Monetario Internazionale quando non le si restituiscono i debiti con gli interessi e tuttavia riesce in questo capolavoro di passare per la loro migliore alleata. È un problema che abbiamo noi, è molto molto serio e quindi vengo alla speranza africana e concludo su quello, poi passiamo alle domande e risposte. La speranza africana, titolo del mio libro, è un pugno nello stomaco per la maggioranza degli italiani perché voi siete abituati a sentire parlare dell'Africa solo come di un buco nero di tragedie, disperazione, calamità e sciagure, un luogo dal quale verranno esodi biblici di migranti affamati che invaderanno l'Europa. L'Africa interessa i media italiani solo se se ne può parlare in termini disperati, non disperanza, disperati. In questo libro l'operazione che faccio è di rivelarvi tante altre facce dell'Africa, continente immenso, 54 nazioni, noi spesso ne parliamo dell'Africa come se fosse una nazione sola, 54 nazioni con delle varietà anche di sviluppo economico, di situazioni politiche. È un libro che si nutre di tanti miei viaggi e soprattutto nel quale io do la parola agli africani perché ci raccontino la loro versione. La loro versione di fatti quasi sempre è molto meno cupa e apocalittica di come noi raccontiamo l'Africa. È un'Africa, per esempio, se prestate attenzione alla creatività artistica che sprigiona dall'Africa in tutti i campi, in modo potentissimo in questa fase, cinema, narrativa, teatro, musica, pittura, è un'arte che non nasce dalla disperazione, un'arte molto più gioiosa e fiduciosa, divertente, allegra di come noi ci raffiguriamo l'Africa. Ma dietro a questo ci sono delle realtà importanti. L'Africa è la terra del futuro perché è la fabbrica dei giovani. Questo non significa che sia quella bomba demografica apocalittica che noi di solito descriviamo. Le Nazioni Unite stanno rivedendo già al ribasso la natalità africana sotto l'influenza di fenomeni come l'urbanizzazione. Tutte le ragazze africane che si spostano dalle campagne alle città fanno meno figli. È effettivamente la terra del futuro per tutte le risorse che possiede. E noi ce la raccontiamo troppo in termini stereotipati anche quando descriviamo il colonialismo cinese in Africa. Non c'è dubbio che è in corso una presenza sempre più evidente. La racconto nel libro, gli esempi che ho visto più stridenti in Etiopia, ma l'importanza della presenza economica cinese non può essere sottovalutata. Ridurla a un fenomeno di colonizzazione in realtà tradisce una sottile forma di razzismo per cui pensiamo sempre che gli africani siano succubi, vittime, prede di manovre altrui, come se fossero dei bambini che non sono capaci di intendere di volere o di decidere il proprio destino. È sempre qualcun altro che decide per loro. Non è così. Anche quando ci sono fenomeni predatori da parte cinese è perché le classi dirigenti africane li hanno voluti, hanno deciso loro. C'è un protagonismo africano, qualche volta scellerato, con conseguenze orribili per le popolazioni locali, ma non significa che loro siano manipolati, manovrati, prede e succubi di altri. A loro volta loro reagiscono. Alcuni dei fenomeni di rigetto dell'Occidente vi sorprenderanno. Quello che loro considerano oggi il nostro imperialismo culturale più insopportabile è, per esempio, l'ambientalismo. Quando sotto l'influenza di un ambientalismo molto radicale la Banca Mondiale ormai in Africa finanzia solo progetti di energie rinnovabili, per loro questa è una cosa insopportabile, assurda e profondamente ingiusta. Sud Africa. Sud Africa è ricco di carbone e purtroppo ha una crisi energetica grave. Una delle prime cose che ci succede quando arriviamo in Sud Africa è che si spengono le luci. Blackout. Poi se sei in un albergo a 5 stelle, dopo un po' si mette in movimento il generatore autonomo, il gruppo elettrogeno a diesel e la luce ritorna. Però figuratevi per il 90% della popolazione che non ha questi sistemi di supporto che cosa significa vivere in un paese dove la luce va via continuamente. Hanno bisogno di produrla nel modo più massiccio e meno costoso possibile, sono pieni di carbone, hanno bisogno di aprire nuove centrali a carbone. Adesso questa è la risposta. Noi siamo diventati intransigenti, non gliele finanziamo più. La Cina va lì e gliele costruisce. Quindi una delle forme nuove di imperialismo culturale dell'Occidente che ci rendono particolarmente indigesti e insopportabili in quella parte del mondo sono queste nuove forme di ambientalismo dogmatico. Un'altra poi, se vogliamo, è la politica estera americana dove uno dei criteri guida è diventato, nel dialogare con quella parte del mondo, è diventato esigere lo stesso livello di tutela dei diritti delle minoranze sessuali, LBGTQ. E questo passa molto male in Africa, non solo da parte di classi dirigenti che hanno resistenza, ma anche le popolazioni per via di tradizioni, modelli valoriali, etici, religiosi. E questo lo sentono come la nuova forma di imperialismo culturale dell'America, quando la vicepresidente americana Kamala Harris va in visita a vari stati africani e subito li sottopone a esami sui diritti dei gay e dei transgender. È una particolare forma di miopia storica, anche quella che caratterizza certe forme estreme del politicamente corretto americano, perché provate a fare questa ginnastica mentale con la storia. Io sono stato bambino negli anni Sessanta, quindi da bambino ho vissuto l'epoca magica dei Beatles, che sono famosi anche oggi, quindi posso farla questa citazione, perché tre generazioni dopo tutti i sanni occhievano i Beatles. L'Inghilterra di quegli anni, metà anni Sessanta, i Beatles considerava l'omosessualità un reato ed era perseguito penalmente. Quindi noi oggi, se avessimo a che fare con l'Inghilterra dei Beatles, non vorremmo relazioni diplomatiche con un paese così oscurantista e medievale. Questo è il cortocircuito che ci rende insopportabili agli occhi degli africani. americani. Le dinamiche del grande sud globale sono ben visibili attraverso fenomeni come i BRICS. BRICS è un club, le cui iniziali significano Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica. È una sigla che ha una storia divertentissima, perché la Conia, un economista della Goldman Sachs per spiegare, 23 anni fa, per spiegare ai suoi clienti dove bisognava investire, paesi emergenti. E poi è diventata, invece è stata adottata dai governi di quei paesi, è diventato un vero e proprio club, un anti-G7. I BRICS di recente hanno deciso un allargamento, hanno incluso, erano 5 all'origine, hanno incluso altri 6 paesi membri, tra cui l'Iran, tra cui l'Iran, per volontà della Cina, che sta cercando mattone dopo mattone, BRICS in inglese sono mattone, mattone dopo mattone. La Cina sta cominciando a costruire il suo ordine globale alternativo al nostro, comprese istituzioni alternative, compresa l'idea di soppiantare un giorno il dollaro come moneta internazionale. E in questa nuova architettura di una globalizzazione sinocentrica, il grande sud globale è molto, molto ricettivo. Grazie Federico Rampini per questo, direi, eccellente, completissimo scenario che ci hai fatto della geopolitica contemporanea e passata, perché ovviamente le situazioni che viviamo oggi poi sono frutto di un'evoluzione storica ben precisa. Tommaso, probabilmente ci vorranno due o tre lecture anche nei prossimi anni per esaurire tutti gli argomenti che abbiamo trattato, quindi ci autoinvitiamo anche per i prossimi anni. Prima di passare alle vostre domande che sicuramente saranno… A proposito di Tommaso, posso ricordare un aneddoto che lui non ha citato e cioè c'è stata la mia lezione precedente nell'azienda, ma quest'ultima è stata possibile perché lui mi ha agganciato correndo a Central Park a New York. L'incontro è avvenuto perché io vivo a New York e corro le maratone di New York e mi alleno facendo il giro di Central Park. Lui pure e quindi devo anche dire a mia discolpa ho qualche annetto in più, di lui. Stava correndo più velocemente, quando mi ha superato mi ha riconosciuto, ha rallentato e abbiamo cominciato a negoziare sull'organizzazione di questa serata, correndo a Central Park. Abbiamo citato, hai citato molto spesso il Sudafrica, che è un paese che entrambi conosciamo bene. Vi assicuro che dopo 12 ore di volo si percepisce quale effettivamente è il sud globale. Quello è davvero sud perché è davvero in fondo. Settimana scorsa ero lì per un evento a Ambrosetti che organizziamo periodicamente tra Cape Town e Johannesburg e durante questa sessione di lavoro un ex ministro dell'industria del Sudafrica si è rivolto a me e a pochi altri dicendo carissimi il momento, il periodo in cui l'Africa venderà e vende materie prime preziose a poco prezzo senza processarle all'Europa è finito. Questa è stata una frase davvero iconica e mi ha fatto venire in mente diverse cose naturalmente, tra cui la necessità per paesi come l'Italia, ma ovviamente per tutti i paesi europei di muoversi e di intraprendere alcune azioni per strutturare dei partenariati paritari con l'Africa. Dopo magari veniamo a parola dell'Italia su questo, però intanto riprendo il titolo del tuo libro per chiederti secondo te, avendo visto Sudafrica e anche altri paesi di questo continente davvero straordinariamente vario per il contesto sociale, economico e politico, che speranza ha l'Africa di contare nel mondo in questo contesto nuovo in cui i BRICS vanno a prendere il ruolo di contraltare rispetto all'Occidente. Dunque, io mi rimetto in piedi perché sono già molto piccolo, almeno sono un po' più visibile stando così. La speranza africana non è un titolo che nasce per un desiderio di infondere ottimismo a tutti i costi, è una constatazione, perché guardate che oltre alla crescente presenza cinese in Africa, che non è tutta negativa, in Africa stanno investendo moltissimo imprenditori indiani, l'India è molto presente in Africa, l'Arabia Saudita, gli Emirati, la Turchia, la Russia è presente solo con la divisione Wagner, dal punto di vista economico a poca rilevante, però se tutti questi attori stanno andando in Africa vuol dire che hanno capito qualcosa, forse dovremmo cercare di capirlo anche noi. Uno dei temi, sicuramente riprendo quella frase che hai sentito dire da un ministro sudafricano, quando lui ti ha detto è finita l'epoca in cui, o sta finendo l'epoca in cui l'Africa vi vendeva, a voi occidentali, vi vendeva materie prime a basso prezzo senza processarle. Ecco la frase, le due parole che io sottolineerei di rosso è senza processarle, cosa significa? Significa che vendere alla materia prima grezza rende poco e un paese si arricchisce se è capace di trasformarla, nel momento in cui la trasforma c'è un valore aggiunto che dà più ricchezza al paese, cioè si creano delle industrie di trasformazione. Allora qui uno degli aspetti per esempio riguarda proprio la nostra transizione verso un'economia più sostenibile. Noi siamo passati da una fase in cui eravamo dipendenti dalla Russia in modo assurdo, irresponsabile per le energie fossili, si è visto come Putin l'ha usata contro di noi questa dipendenza. Stiamo velocemente passando a un'altra fase in cui diventeremo altrettanto dipendenti in modo altrettanto folle nei confronti della Cina perché tutte le batterie per auto elettriche sono cinesi, anche quelle della Tesla di solito sono fatte in Cina, i pannelli solari praticamente ormai sono un monopolio cinese e noi andiamo a schiantarci, correndo andiamo a schiantarci dritti contro un vuoto. Dietro questa constatazione c'è chi crede in buona fede in Italia perché il litio per esempio, metallo essenziale per produrre le batterie elettriche, sia tutto in mano ai cinesi. Non è così, di litio in Cina ce n'è poco, le miniere di litio si trovano in Africa, anche in America Latina e in Australia. Il problema è che i cinesi o le hanno comprate, le sono proprietari loro, o comunque sono gli unici che si sono costruiti una filiera di trasformazione per cui lo vanno a prendere, il minerale grezzo che spesso è mescolato con terriccio. Se lo portano in Cina lo trasformano, lo raffinano e alla fine diventa quel litio che effettivamente è utilizzabile dentro per fare una batteria elettrica. Dove sta scritto che questo non possiamo farlo noi? Ah no perché noi, momento, non vogliamo neanche sapere se ci sia del litio sotto casa nostra. Non vogliamo aprire nuove miniere perché noi siamo puliti, perché noi siamo ambientalisti, le miniere sono una cosa sporca. Quindi noi vogliamo guidare l'auto elettrica ma mestieri sporchi che sono a monte dell'auto elettrica, che confluiscono nel produrre quell'oggetto, li vogliamo più lontani possibili dagli occhi, ignorando tutto l'inquinamento che producono altrove. Questo lo dico perché se c'è una speranza africana in cui l'Europa voglia, o l'Italia, svolgere un ruolo, dobbiamo andare noi a sostituire i cinesi e a creare dei processi di lavorazione, raffinazione, trasformazione, possibilmente in loco, in Africa stessa. Questa era la logica terzomondista di un personaggio come Enrico Mattei. Enrico Mattei che dà il nome al piano Mattei annunciato dal governo Meloni, che continuiamo ad aspettare, era il fondatore dell'ENI, un paese pubblica, che aveva una politica energetica più amica dei paesi produttori di petrolio che all'epoca, a Nord Africa, a Medio Oriente, erano ancora dei paesi, stiamo parlando anni 50-60, ancora dei paesi abbastanza poveri. Lui cercava di avere degli accordi con loro che tenessero conto dei loro interessi. E questo è quello che noi dovremmo fare oggi. Hai citato l'Italia e il convitato di Pietra che è il piano Mattei, i cui contenuti non abbiamo ancora capito bene come saranno delineati. Lo saranno perché certamente è una visione che non solo questo governo, ma anche i governi passati hanno elaborato grazie a un'attenzione maggiore verso l'Africa. Però i risultati sono ancora tutti da verificare. L'unico modo, secondo me, per convincere le imprese ad investire in Africa è appoggiandosi a dei capi filiera. Quindi le grandi aziende che investono in paesi africani cercano di aprire degli stabilimenti produttivi o di processazione di alcuni prodotti fondamentali che poi servono non soltanto all'economia europea ma anche in primis all'economia africana e quindi lasciano valore aggiunto, creano valore aggiunto sul territorio. Altrimenti non saranno le PMI a rischiare andare in Africa in un territorio, in territori spesso poi colpiti da stabilità politica e tanti rischi a cui non si sa come porre rimedio. Paesi come la Francia, abbiamo visto anche in questi giorni, si stanno muovendo in tema materi rare con altri interlocutori non africani. La Mongolia, per esempio, è uno di questi. Macron è stato in Mongolia qualche mese fa. Infatti mi chiedevano come mai Macron è in Mongolia? Adesso l'abbiamo capito. Il presidente Mongolia è arrivato a Parigi all'inizio settimana e ha firmato un accordo di approvvigionamento di uranio di tot milioni di euro. La Francia quindi sembra un paese piuttosto attrezzato anche per la struttura di imprese che ha per affrontare questo tipo di sfida, nonostante i retaggi coloniali. L'Italia, secondo te, com'è attrezzata per investire in Africa? Intanto bisogna affermare il principio che dobbiamo andare in Africa a investire. Una delle logiche razionali per farlo è che costruire in Africa stessa più opportunità di occupazione per gli africani è uno dei modi per ridurre la pressione migratoria. non è un toccasana, un po' di migrazione ci sarà sempre, non è quell'esodo biblico di cui si parla in termini numerici, però uno dei modi per affrontare seriamente e positivamente il tema delle migrazioni è andare a costruire opportunità di lavoro lì, in loco. Molto più questo, molto più questo che non gli aiuti umanitari. Purtroppo il bilancio della politica degli aiuti e della cultura degli aiuti umanitari è catastrofico. Noi abbiamo versato all'Africa in questa forma aiuti umanitari 20 volte il piano Marshall. Il piano Marshall era quel piano aiuti, fondi, finanziamenti americani che consentirono la ricostruzione dei paesi europei dopo la seconda guerra mondiale, Italia inclusa. 20 volte piano Marshall e quei soldi non hanno dato i risultati sperati. Quindi servono imprese, servono investimenti, non più la cultura degli aiuti. Lo dico pur con tutto il rispetto per gli aiuti umanitari soprattutto per quelle forme di impegno umanitario che vedono ONG, volontariato, missionari. Noi italiani abbiamo un'antica tradizione di missionari in Africa che io ho conosciuto, con cui spesso ho organizzato i miei viaggi in Africa, tra l'altro. Mi sono avvalso della competenza, della conoscenza del territorio di missionari ONG umanitarie, ma loro stessi sono molto più critici verso la cultura degli aiuti di quanto non crediamo, perché vedono i limiti sul terreno di questa cultura. E dobbiamo perfino essere capaci di rivalutare l'aspetto che a noi sembra più deteriore della penetrazione cinese. Tu dicevi prima che in Africa ci si può andare solo con grandi imprese, grandi, grandi, grandissime imprese, non con la piccola e media impresa. Attenzione, perché la penetrazione cinese in Africa in realtà è fatta a due livelli. Ci sono le grandi opere infrastrutturali, cioè i cinesi che costruiscono strade, autostrade, ponti, ferrovie, porti, aeroporti, centrali elettriche. E sono tutte cose necessarie peraltro all'Africa. Quando io ho attraversato delle zone dell'Etiopia dove vedevo bambine camminare per ore e ore su strade sterrate per andare a scuola, oppure per andare a prendere l'acqua potabile e tornare al villaggio. E quando poi finalmente ho visto apparire una ditta che asfaltava quella strada, consentendo di ridurre, di far passare degli autobus e ridurre i tempi di tragitto, quella ditta era sempre cinese. Quindi non sputiamo addosso a tutto quello che stanno facendo i cinesi, dovremmo fare un po' di più noi quei lavori, ma questo è un tipo di presenza cinese in Africa, le infrastrutture. Poi c'è un altro fenomeno cinese in Africa che è invece un'invasione di piccoli e medi imprenditori che sono un po' convinti che l'Africa si è un po' di più. Poi c'è un po' di più. Per come noi giudichiamo con i nostri parametri di oggi, sono a volte dei pirati e dei farabutti, assetati di profitto, sfruttatori. Però vedete il vecchio Mao Zedong, il fondatore del comunismo cinese diceva della rivoluzione comunista non è una cena di gala. La stessa cosa si potrebbe dire della rivoluzione industriale, non è mai stata una cena di gala, è fatta di lacrime, sudore, sangue, sfruttamento, però la rivoluzione industriale, a differenza della rivoluzione comunista che mise la Cina ripetutamente sull'orlo della carestia di massa, quando cominciò la rivoluzione capitalista in Cina, in vent'anni sollevò dalla miseria un miliardo di persone. Quindi non è un bello spettacolo, perché si passa anche attraverso tanto dolore e sfruttamento, però i risultati valgono la candela. E su questo noi dovremmo essere un po' più realisti, pragmatici e anche spregiudicati di quanto siamo. Noi alle nostre imprese, alle nostre imprese italiane, quando vanno in Africa facciamo subito il processo alle intenzioni. Cioè un'impresa italiana o occidentale, anche una multinazionale americana, se va a investire in Africa c'è addosso i riflettori puntati dei media, delle ONG, degli ambientalisti, della magistratura, pronti a denunciare saccheggio di risorse naturali, sfruttamento della popolazione locale. E in questo modo ci rendiamo impotenti. Scoraggiamo quel flusso di investimenti che invece è urgente e necessario. Poi c'è l'altro problema che hai evocato tu, cioè i rischi. Non è che ci sia tutta questa corsa degli investimenti italiani in Africa, anche perché ci sono paesi dove da un giorno all'altro ci può essere un colpo di Stato, magari ci sono dei fenomeni di guerre civili, milizie jihadiste nel Sahel o Boko Haram in Nigeria, alta criminalità Sudafrica. Qui il problema della sicurezza è una delle ragioni per cui in Africa noi dobbiamo anche misurarci con quella che io definirei la questione Wagner. Cioè i russi che all'Africa non danno praticamente niente in termini economici, però sono apprezzati in quanto, per dirla in inglese, security provider. Sono dei fornitori di servizi di sicurezza e quello è un mercato essenziale. L'Africa ha bisogno di più sicurezza e noi dovremmo esserci, dovremmo trovare il modo con le nostre regole del gioco, di esserci anche in quello. Poi per quanto riguarda le nostre piccole e medie imprese penso che ci vorrebbero anche delle forme assicurative. La Cina in quello aiuta molto i suoi imprenditori, cioè l'imprenditore cinese che va in Africa, prende dei rischi e poi fallisce, ha però spesso un paracadute assicurativo del suo paese. Paracadismo è la parola chiave per affrontare questo tipo di contesto, è una grande wake up call. Prima c'è stata la pandemia, poi la guerra in Ucraina, poi adesso l'emersione di questo nuovo mondo con il Global South che vuole contare sempre di più, è la terza sveglia che ci assorbiamo, che dobbiamo assolutamente cogliere. Abbiamo direi ancora una abbondante mezz'ora per raccogliere domande dal pubblico fino alle 7.15, 7.20, quindi darei la parola a voi per le domande. Grazie, innanzitutto grazie mille per la lezione che ha tenuto qui. La mia domanda partiva da una considerazione iniziale che è stata fatta, è stato fatto un lungo esempio di imperi nella storia che si trovavano in vari luoghi del mondo, non è stato citato l'impero cinese. La mia domanda partiva da queste considerazioni, la considerazione circa la grandezza di questi imperi, in particolare per esempio la Cina, si è parlato della Cina, della crisi del 2008 che è stata l'occasione da parte della Cina per fare il takeover sul mondo occidentale, eppure a partire dal 2021 la Cina si trova in una situazione di grande crisi economica per esempio, abbiamo una crisi immobiliare, una crisi del settore dei servizi pubblici, in Cina non c'è il welfare per esempio, e molte difficoltà dal punto di vista finanziario, tant'è che appunto il paese ha invitato i suoi economisti a non fare più previsioni negative, e ha smesso di pubblicare le statistiche circa, per esempio i dati sulla disoccupazione giovanile. Quindi è giusto per fare appunto l'esempio della Cina che rappresenta questa grande minaccia per il mondo occidentale, ma anche per esempio appunto l'India che si sta proponendo come alternativa, ma che comunque continua ad avere grosse difficoltà interne, anche dovute a questioni religiose, del fenomeno dei pari a che si vuole sconfiggere, ma che ancora non è del tutto debellato dalla società indiana. Quindi appunto per concludere, la mia domanda è, parafrasando la frase di un vecchio, non so se saggio personaggio politico, il mondo occidentale magari è di media statura, però non ci sembrano esserci tutti questi giganti intorno al mondo occidentale. Ecco, grazie. Dunque intanto una notazione sull'impero cinese, perché i cinesi nella loro capacità propagandistica di presentarsi come i migliori amici alleati del grande sud globale, hanno messo in circolazione da tempo questa loro particolare lettura della storia, secondo cui loro non hanno il DNA dell'imperialismo e mentre noi negli ultimi cinque secoli, dopo l'era delle grandi scoperte aperte da Cristoforo Colombo, abbiamo cominciato ad andare in giro per il mondo a creare colonie da sfruttare, loro questo non l'hanno mai fatto. Questo dice quanto è sfacciata la propaganda cinese, perché basterebbe osservare la carta della Cina per constatare che la Cina oggi è un impero coloniale. Il Tibet non è Cina, lo Xinjiang degli uiguri, musulmani e turcomanni non è Cina e la Mongolia interiore non è Cina, sono colonie della Cina, che è un impero coloniale nell'anno 2023. Sulle difficoltà della Cina confermo tutto quello che lei ha detto ed è legato proprio alla nuova sterzata in senso socialista della politica economica di Xi Jinping, perché quel miracolo che loro fecero nel 2008, quando noi sprofondavamo nella recessione in seguito al crack dei mutui subprime e loro riuscirono a salvarsi grazie a robuste iniezioni di investimenti pubblici, ha però seminato i germi di tutti i problemi che hanno oggi, perché ha funzionato nel breve termine però quel ritorno allo statalismo e al dirigismo. Prima di tutto c'è stato un sovrainvestimento in infrastrutture, hanno costruito troppo, addirittura città deserte, hanno costruito delle città che sono semivuote, dove gli appartamenti non si vendono, per di più poi è cominciato il declino demografico della Cina, bolla speculativa del settore immobiliare, stanno fallendo dei colossi, dei giganti dell'edilizia in Cina. Il fenomeno della disoccupazione giovanile è a dei livelli che da noi riempirebbe le piazze di cortei, il 20% dei giovani cinesi sono senza lavoro, un neolaurato su 5 senza lavoro. Quindi è tutto quello che Xi Jinping sta facendo per riaffermare il primato del partito comunista, tende a frustrare, a deprimere quella vitalità imprenditoriale che era stato il segreto del primo successo. Quando Deng Xiaoping, alla morte di Mao decise di trasformare la Cina in un'economia di mercato, liberò, sprigionò delle energie straordinarie che venivano da una storia antica, perché la Cina aveva avuto un protocapitalismo prima di noi, nel 1200 grosso modo. Però ecco, adesso invece questo ritorno di statalismo e di socialismo tende a attenuare quel vigore innovativo che era tipico di tanti imprenditori cinesi. Quindi è una fase in cui ci si comincia a chiedere se il miracolo cinese sia finito o sia entrato in una fase più problematica, più difficile. In quanto a noi, l'Occidente, noi siamo soprattutto bravi ad autoflagellarci, a vedere i nostri difetti. Questo è il nostro sport preferito, è l'autodenigrazione, l'autodemolizione, per cui abbiamo un problema drammatico di autostima. Questo vale anche negli Stati Uniti. Non abbiamo, sì, lei diceva, non abbiamo dei giganti, certamente nulla in Occidente che si avvicini alla stazza demografica di Cina e India, però la nostra vitalità andrebbe valorizzata un po' di più. La capacità delle democrazie di gestire delle crisi, guardate per esempio la vicenda del Covid che è ancora fresca di memoria, della pandemia, come siamo riusciti a gestire un equilibrio tra misure di emergenza, che erano necessarie ma che non abbiamo portato fino all'estremo dittatoriale della Cina. E quel fantastico sistema che si chiama capitalismo, che con il finanziamento privato e pubblico insieme alla ricerca e l'industria farmaceutica privata ci ha dato i migliori vaccini del mondo. La gara dei vaccini ha visto stravincere il capitalismo occidentale, mentre i vaccini di Stato cinesi e russi erano scadenti e mediocre. Sono dei test abbastanza importanti e quando li vinciamo non siamo mai sufficientemente consapevoli, non ce lo diciamo abbastanza, che forse siamo bravi anche noi. La ringrazio tanto per questa bellissima lezione di geopolitica e mi riallaccio proprio alle ultime cose che ha detto, cioè relative al fatto dell'Europa e del nostro modello di vita, dei nostri valori, perché ritengo che questo sia una cosa importantissima, cioè io ci tengo a mantenere i miei valori, a mantenere i valori occidentali e della democrazia e del modello sociale eccetera eccetera. Quindi questo è un punto di partenza che mi induce anche con riferimento agli esempi che ha fatto relativi alla pandemia e a quello che ha seguito, il recovery fund e tutto il resto, al ruolo dell'Europa, cioè il ruolo dell'Europa che è visto sempre, c'è sempre una visione anche da parte giornalistica, della gran parte di giornalisti, una visione confederale, cioè una visione di Stati, questo Stato contro questo, quell'altro, cioè non c'è mai la visione del processo di unificazione europea, che è un processo in corso, che è sicuramente limitatissimo, che ha tanti deficit, ma è un processo in corso e in questo momento nella generale inconsapevolezza si sta registrando a livello di Parlamento europeo una presa di posizione piuttosto forte sulla riforma dei trattati, toglie l'unanimità tra l'altro che blocca tutti i processi, creare veramente un'Europa più forte, più solidale, ma anche più forte dal punto di vista economico, agire insieme, lei stessa l'ha detto in un articolo recente, se l'Europa fosse unita, ecco, adesso senza pensare ai sogni, ma pensando proprio alla realtà, il giornalismo dovrebbe, diciamo i mass media dovrebbero seguire di più il processo di unificazione, non tanto il rapporto della Francia contro la Germania, la Germania contro l'Italia, eccetera, e quello viene sempre messo in evidenza. Grazie e scusi. Più un intervento che una domanda, ma sono sostanzialmente d'accordo, aggiungerei questa chiosa, se vogliamo, che adesso si avvicina a grandi passi forse un test per l'Europa che è l'allargamento all'Ucraina, che se ne parlerà sempre di più. Le tensioni saranno notevoli, perché l'Ucraina è un paese grosso, è un paese povero, è un paese agricolo, è un paese in guerra, quindi questa nuova fase dell'allargamento, poi non potremmo, se l'Europa si allarga a est, non può includere solo l'Ucraina, questo significherebbe altri paesi dei Balcani, ad esempio, e certamente ci vorranno nuove regole di funzionamento, perché sia governabile. Buonasera, grazie mille veramente per la splendida relazione di stasera, grazie mille ancora a Tommaso Rossini di averla portata qua, perché è stato veramente fantastico. Non posso però a non chiederle e approfittarle per chiedere una domanda sugli Stati Uniti, veramente una breve nota, perché ogni tanto arrivano delle notizie molto allarmanti, alcune newsletter eccetera, volevo chiedere quanto lei vede realistico da 1 a 10, quando ci saranno le prossime elezioni, un ipotetico caos e quindi eventualmente anche una specie di guerra civile o qualcosa del genere negli Stati Uniti. 2. Quanto vede possibilmente anche a livello globale un'attenzione che possa estendere l'attuale Ucraina, Medio Oriente a un'eventuale guerra che coinvolga una guerra mondiale. Ecco, tutto lì, grazie. L'America varrebbe una serata solo per lei, quindi le posso dare solo qualche spunto. Io confermo la sua preoccupazione, io che ci vivo, che ne ho preso la cittadinanza, non mi sento molto tranquillo. La prossima elezione presidenziale, ormai 12 mesi, poco più di 12 mesi, il primo martedì di novembre del 2024, andiamo a votare. Poiché pago le tasse in America, ho il passaporto americano, voto regolarmente, ho il diritto di dirmi profondamente insoddisfatto. L'alternativa che mi si dà in questo momento, poi spero ancora che succedano dei miracoli. Ma in questo momento l'alternativa, per dirla nel modo più brutale possibile, è tra eleggere un deficiente e un delinquente, che non è un bello spettacolo. Deficiente, ho espresso in modo un po' brutale, la scelta. Deficiente ha un po' brutale, ha però, intanto non è forse così decrepito e così avanzato, però certamente i problemi di invecchiamento di Joe Biden ci spaventano. Non ha però tutti i torti Joe Biden quando si rifiuta di prendere atto del suo deperimento, perché teme quello che succederebbe se lui si ritira, è ancora possibile, non escludo che lui faccia il gesto, passo indietro, ma lui teme se si ritira che nel suo partito scoppi una guerra civile, perché il partito democratico americano è il pandemonio. Cioè ci sono dentro delle alle di una sinistra radicale che in confronto Elislein è moderatissima e poi ci sono dentro dei moderati centristi che sono molto, ma molto più a destra di Calenda e Renzi da voi. Si fa fatica a trovare un punto di equilibrio e di raccoglio. La sinistra ultra radicale, che è potentissima in America, molto più di quanto voi possiate immaginare, governa New York, governa la California, con dei risultati abbastanza disastrosi. Politiche migratorie, sconclusionate, aumento della criminalità, è un serio problema. Immaginarsi, per esempio, faccio un esempio molto concreto, verosimile, che Joe Biden faccia un passo indietro e che emerga come candidato a la nomination democratica Gavin Newsom, che è l'attuale governatore della California, è uno dei più gettonati. Ma i repubblicani metterebbero subito in onda su tutte le reti televisive nazionali degli spot pubblicitari con i filmati della hecatombe di morti per overdose sui marcepiedi di San Francisco, Los Angeles. E quello è la fine della candidatura del governatore della California. Tutto il resto degli Stati Uniti dice no, noi non vogliamo diventare la California. Sull'altro versante il delinquente. Il problema è che quello che mi preoccupa ovviamente è la minaccia che un Trump 2 rappresenterebbe per la democrazia. Molto più del primo Trump, perché questo Trump è un personaggio vendicativo, rancoroso, animato da una voglia di regolamenti di conti che fa paura. E poi c'è tutto il versante della politica estera. Cioè io so quando sono, quest'estate tra i miei grandi viaggi di lavoro sono stato a Taiwan. E in quella parte del mondo l'idea che possa ritornare alla Casa Bianca un presidente sostanzialmente isolazionista, che non crede nelle alleanze, fa paura. Perché il ruolo dell'America per contenere l'espansionismo cinese è fondamentale. Ma anche gli europei dove si si porranno nel corso del 2024 questo tema diventerà molto forte anche qui in Europa. Cioè resisterebbe la Nato a una seconda presidenza Trump. Non riesco a direvi cose molto rassicuranti. Buonasera, grazie mille per l'intervento. Volevo fare una domanda a livello di quanto detto riguardo ai valori, al nostro in qualche modo portare gli investimenti sempre affiancati ai nostri valori che in qualche modo si definiscono come identitari. Quanto questi valori sono in realtà poi distruttivi per l'economia locale più che l'economia, le politiche locali? E in secondo luogo perché questo blocco valoriale non si verifica anche per investimenti in altri paesi, in altri luoghi? Penso ad esempio gli investimenti in Cina, nel momento in cui anche in Cina ci sono problemi a livello ambientalistico, a livello appunto di diritti umani e così via. Grazie mille. Sì, sostanzialmente concordo con la critica implicita nella sua domanda. Noi siamo prigionieri di quello che io chiamo, nel libro La Speranza Africana affaccio ogni tanto questo termine, estremismo umanitario. Cioè possiamo essere di una rigidità ideologica estrema sui principi sui quali non vogliamo transigere e questo ci porta appunto a scoraggiare investimenti che vengono subito in Africa bollati come predatori, distruttivi per le risorse naturali. E poi magari invece ci consegniamo con la nostra dipendenza dalla Cina per le batterie elettriche a un paese che inquina perché noi possiamo dirci ambientalisti, affinché noi possiamo dirci ambientalisti guidando un'auto elettrica si è spostato in Cina tutta la parte inquinante che sta a monte di quel prodotto. Oppure quando per tornare a un paese in questo momento al centro di una zona tragicamente turbolenta come l'Arabia Saudita, molti hanno sostenuto che con l'Arabia Saudita bisogna, anche in America, la sinistra americana, con l'Arabia Saudita non bisogna avere rapporti, visto che giornalista d'opposizione Jamal Khashoggi fu assassinato, però allora perché avere rapporti con la Cina che tiene un milione di musulmani uiguri in campi di rieducazione e calpesta i diritti dei tipi, allora dovremmo chiudere tutti i rapporti con la Cina, cosa che non ci sogniamo di fare, non saremmo neanche in grado di farlo, tale è la nostra dipendenza dalla Cina. Grazie per gli spunti di riflessione, due domande in realtà collegate sul ruolo delle tecnologie, sappiamo che ci sono tecnologie decisamente globali come l'intelligenza artificiale per esempio, che probabilmente avranno un impatto abbastanza dirompente anche sugli scenari geopolitici, quindi volevo intanto chiederle come vede questo impatto e se questo potrà andare a modificare ulteriormente i rapporti tra gli imperi e tra le potenze globali. La domanda collegata riguarda appunto all'aspetto positivo che lei diceva prima, cioè se noi, poiché noi occidentali, in fondo siamo stati quelli che hanno creato le tecnologie e che sanno governare molto bene le tecnologie, se non possiamo porci nei confronti dell'Africa anche come formatori, c'è un'altra modalità per aiutare l'Africa, che può essere positiva anche per noi, potrebbe essere anche quella di fare formazione tecnologica e manageriale nei confronti dei paesi africani anche apparendo le nostre università, i nostri luoghi di cultura, a quelle popolazioni. Volevo sapere cosa ne pensava anche di questo secondo punto. Grazie. Intanto io abbraccio con adesione totale questo suo linguaggio positivo sulla tecnologia, che è molto diverso invece da una delle correnti dominanti della cultura occidentale, che è l'ambientalismo religioso, l'ambientalismo apocalittico, il quale invece predica che tutto ciò che abbiamo fatto noi occidentali, dalla rivoluzione industriale in poi, è distruttivo. Abbiamo seminato distruzione in tutto il pianeta e siamo i colpevoli di questo immane saccheggio di risorse naturali, devastazione di equilibri che tra poco condurrà alla fine del mondo. Questo è un linguaggio, sto calcando la mano, ma non è molto diverso da quello che si sente nelle manifestazioni di ambientalisti radicali, fa molto presa tra i giovani, almeno tra certi giovani, tra segmenti di giovani. Questa demonizzazione dello sviluppo economico, il male supremo, che è veramente una perversione. Non soltanto contribuiamo a screditare tutto ciò che l'Occidente ha fatto, ma abbiamo una visione della realtà che è deformata. Se non fosse per la rivoluzione industriale e tecnologica che noi occidentali abbiamo portato nel resto del paese, in questo momento o sarebbero morti o non sarebbero mai nati la metà degli abitanti della Cina, dell'India, dell'Africa. 50 anni fa, all'epoca della guerra dello Yom Kippur, crisi energetica, già allora c'erano gli apocalittici, le cui profezie regolarmente vengono smentite dalla realtà, ma gli apocalittici continuano. Allora c'erano due profezie dell'apocalisse, una era che stava per finire il petrolio, falso, poi la tecnologia ha scoperto sempre più risorse e la seconda era che saremmo stati distrutti da il combinato tra bomba demografica, troppi abitanti del pianeta e fame, conseguente fame. Non avremmo mai potuto sfamare tutti quei. 50 anni dopo gli abitanti sono raddoppiati e l'agricoltura è in grado di sfamare non gli 8 miliardi che siamo, ma 10 miliardi. Poi purtroppo esistono ancora sacche di fame, denutrizione, sottonutrizione, ma questi sono fenomeni legati alla povertà, non alla mancanza di alimenti. Di alimenti ne produciamo anche troppi, grazie alla rivoluzione industriale e tecnologica applicata all'agricoltura. Quando io ero bambino a Bruxelles, perché sono cresciuto a Bruxelles, raccoglievamo, facevamo le collette per mandare aiuti ai miei coetanei, ai bambini indiani, per salvarli dalle carestie. Oggi l'India è una superpotenza agroalimentare che esporta eccedenze di riso e cereali nel mondo intero. Nel frattempo è avvenuta una rivoluzione industriale e tecnologica, a base tra l'altro di fertilizzanti. I fertilizzanti. Queste sono cose per cui, quando sentiamo le profezie dell'apocalisse di certi ultra ortodossi ambientalisti religiosi, li definisco religiosi perché è una forma di fanatismo religioso che non ha nulla a che vedere con la scienza. O quando sentiamo anche il linguaggio del grande sud globale che ci dice voi siete gli unici responsabili dell'inquinamento. Con il nostro inquinamento gli abbiamo consentito di esistere, di sopravvivere, di sfamarsi, di alimentarsi. Noi non parliamo poi di tutte quelle che sono le conquiste della medicina occidentale che hanno ridotto la mortalità infantile in Africa. In Africa le cose stanno andando molto meglio di quanto crediamo noi. I successi anche in campo sanitario sono rimarchevoli. Il miglioramento delle condizioni sanitarie africane è notevole, ma sostanzialmente merito nostro. Quindi volevo prima di tutto commentare la seconda parte sull'approccio positivo al progresso tecnologico. Sul fatto che però al tempo stesso queste certe nuove tecnologie sono la nuova frontiera della seconda guerra fredda, certamente l'intelligenza artificiale è considerata un settore strategico anche per gli usi militari. Mi colpisce il fatto che Henry Kissinger, l'ex segretario di Stato che è stato forse il più grande diplomatico del Novecento, ha compiuto cento anni. Adesso si sta occupando moltissimo di, l'ho rivisto di recente a New York, sta occupando moltissimo di intelligenza artificiale e delle sue conseguenze sulla guerra, l'uso in campo militare. Se osservate con attenzione tutto quello che sta facendo l'amministrazione Biden sotto forma di embargo alle forniture di semiconduttori sofisticati alla Cina, sta mettendo dei paletti per limitare o addirittura vietare la vendita di certi tipi di microchip alla Cina, sono soprattutto quei microchip che vengono utilizzati per l'intelligenza artificiale, per esempio quelli progettati e disegnati dalla società NVIDIA di Santa Clara nella Silicon Valley californiana. Le due superpotenze, America e Cina, hanno ben presente che la gara del futuro probabilmente si giocherà su queste tecnologie. Grazie. Innanzitutto mi associo ai ringraziamenti per la sua lecture, anche i ringraziamenti a Tommaso Rossini che evidentemente ha organizzato questa serata in maniera magistrale e anche aver fatto che sia riuscito a correre dietro a Central Park. Venendo alla domanda, io seguo la sua rubrica Oriente-Occidente. No, no, io sono stato molto chiaro, sono io che correvo dietro a lui perché lui era più veloce. Giusto, giusto. Allora, per il fatto di essersi girato mentre le sfrecciava accanto. Venendo alla domanda, io seguo la sua rubrica Oriente-Occidente, la sua video rubrica e negli scorsi giorni ho letto, ho visto delle manifestazioni che ci sono state in seguito agli attacchi di Hamas in America, nelle principali università, in alcune delle principali università americane, tra cui Harvard, di sostegno nei confronti di Hamas e evidentemente contro Israele. Quindi le volevo chiedere, a fronte di un'elite americana o di chi deve formare l'elite americana che esprime in questo modo dei sentimenti evidentemente anti-occidentali in maniera così forte. Come questo può cambiare nel prossimo futuro i rapporti tra un Occidente che evidentemente ha dei problemi al proprio interno, che si autocritica quasi implicitamente e un Oriente che invece esprime in maniera così, come diceva lei giustamente prima, così forte, così potente, i propri valori e la propria predominanza? Grazie. Questo è un tema enorme, io avevo dedicato un intero libro due anni fa intitolato Suicidi occidentali a questi fenomeni che vivendo negli Stati Uniti li ho avvistati da tempo, questi fenomeni di autodistruzione che sono uno dei nostri problemi in questa fase storica. Posso dire che sempre di più la situazione è uguale sulle due sponde dell'Atlantico, è cominciato prima in America però sta arrivando a proposito delle manifestazioni pro Hamas, con le punte più estreme, che non sono pro Palestina, un conto è avere sensibilità, solidarietà nei confronti del popolo palestinese, migliorare la sorte del popolo palestinese, volere che il popolo palestinese abbia uno Stato indipendente. Queste sono tutte cose legittime e sacrosante, sono cose che peraltro non interessano Hamas, Hamas è un movimento religioso fondamentalista che non è interessato allo Stato palestinese, ha in mente lo Stato islamico che è un'altra cosa, che è molto più vasta, non ha in mente il miglioramento del benessere dei palestinesi altrimenti tutti i fondi che ha ricevuto in questi anni dal Qatar non li avrebbe investiti in armi, in missili. Però noi abbiamo avuto delle manifestazioni pro Hamas e subito dopo la strage dei bambini israeliani in queste manifestazioni non c'era una parola neanche di empatia, di cordoglio, solo di sostegno a Hamas. Qui in Italia a me ha colpito quella in cui si è sentito un comizio di un terrorista italiano, colpevole dell'assassinio di Walter Tobagi, un grande giornalista democratico. Ora, con questo terrorista italiano ha scontato la sua pena, oggi è un uomo libero, ha il diritto di esprimere tutte le sue opinioni e questo è il bello della nostra democrazia, a differenza dei territori governati da Hamas qui si può esprimere ogni genere di opinione. A me quello che fa paura è il fatto che un pezzo di mondo giovanile italiano lo ascolti come un guru. Questo è preoccupante. Non che lui sostenga il terrorismo, lo ha praticato, ma che un pezzo di mondo giovanile oggi lo segua, penda dalle sue labbra. Questo mi fa sollevare delle domande anche su che cosa imparano a scuola questi ragazzi. Ma in America abbiamo lo stesso problema. A Harvard, che è l'università dove si sono laureati otto presidenti degli Stati Uniti, tra cui i due Roosevelt, John Kennedy, Barack Obama, università che ha il record mondiale dei premi Nobel, 50 premi Nobel solo Harvard. Il giorno dopo la strage di bambini israeliani c'erano già le prime prese di posizione, 30 associazioni studentesche di Harvard pro Hamas. È un clima ideologico, c'è anche dell'antisemitismo, c'è anche quello. A Stanford, altra università, stiamo parlando di università dove si pagano rette anno, non come al collegio Ghisleri, si pagano 70 mila dollari l'anno diretta. Un'altra di queste università di super super elite, Stanford, nella Silicon Valley, dove vanno parecchi figli di milionari di big tech, un insegnante in classe ha separato, ha preteso che gli studenti ebrei si mettessero in un angolo e ha cominciato a fargli una specie di processo e a un certo momento gli ha detto quanti sono stati i morti ebrei dell'olocausto? Sei milioni? Pochi, pochi rispetto a tutte le vittime del colonialismo. Questo è un clima che è stato tollerato da autorità accademiche, è un clima di università dove quella che un tempo si sarebbe definita la controcultura negli anni 60, perché esisteva già una tradizione di una sinistra molto radicale negli anni 60, posti come Berkeley, ma oggi è la cultura dominante e non ammette di senso. In molte di queste università non c'è più la libertà di parola. Chi esprima un parere diverso viene cacciato da queste organizzazioni studentesche. È un brutto clima ed è un clima di autodistruzione dell'Occidente, perché appunto il collante di tutte queste... A Israele non si perdonano tante cose, ma tra l'altro non si perdona di essere dalla parte sbagliata dei grandi blocchi, di essere con l'Occidente e non dall'altra parte. Questo mi ricollego a quello che dicevo sul grande sud globale. Il grande sud globale è permeato di ostilità verso l'Occidente, anche perché li abbiamo formati noi. Molti leader africani che sono profondamente anti-occidentali hanno studiato alla Sorbona, alla London School of Economics o addirittura anche a Harvard, se sono figli, se sono rampolli di qualche dinastia regnante africana. Li abbiamo formati noi all'odio dell'Occidente. È un problema che ci si sta ritorcendo contro. Allora, ho due domande. Abbiamo visto e vediamo in questi anni che un'Europa, come mi ha detto lei, è il vero perdente di questa storia. È un vaso di occhio e tavassi di ferro, cioè è incapace di reagire, è sempre divisa. Lei a me, come dire, a me pensa che dovrebbe invece reagire l'Europa, sia l'Unione Europea come paesi europei, non dell'Unione. Come pensare dovrebbe l'Europa reagire a questa, a tutto questo? Così se non mi sono spiato bene. Come dovrebbe reagire? Come? Beh c'è un lungo elenco di cose da fare, ma riprenderei due dei temi. Uno è quello di impegnarci di più nella battaglia delle idee e a difesa dei nostri valori. Anche con un po' più di determinazione quando accogliamo dei nuovi arrivati. Chi entra in Europa, chi viene a vivere in Europa dovrebbe aderire alle nostre regole, valori e principi fondamentali. Questa è una cosa che noi non pratichiamo da tempo. L'idea di dire che l'immigrazione, anche tra le regole per governare i flussi migratori, dovrebbe esserci anche quello quello che si dice ius culture, dovrebbe essere una vera adesione ai nostri valori. Abbiamo il diritto di pretenderlo da chi viene a vivere in mezzo a noi. Però la battaglia delle idee la dobbiamo prima vincere tra di noi. Perché se la metà di noi sono convinti che l'Occidente è il male supremo, abbiamo un problema in casa. Quindi prima bisogna, e credo che sia proprio tra i giovani che bisogna ricominciare a praticare questa battaglia delle idee. Non si vince con l'imposizione. L'imposizione da noi in una democrazia non funziona. Però dobbiamo essere più coraggiosi, più spregiudicati nel riaprire un dialogo con i giovani per spiegargli che ci sono dei valori della nostra civiltà che meritano di essere difesi e non offesi. e poi c'è invece tutto il versante, per esempio, del recupero di un'attenzione alla forza militare. Lei ha usato l'espressione vaso di coccio. Per non essere più vaso di coccio dobbiamo investire nell'elemento della sicurezza, la dimensione della sicurezza quindi delle forze armate. Anche questo è un tabù da tempo. C'è un pacifismo mal compreso, mal digerito, incoerente, che dimentica la regola degli antichi romani, si vis pacem para bellum. Se vuoi la pace tu devi essere armato, in modo che i tuoi vicini più aggressivi non abbiano la tentazione. Vi ringrazio Federico per questa eccezionale lecture che ci hai presentato. Un altro messaggio chiave, in effetti siccome ci troviamo in un prestigiosissimo collegio, è che serviranno dei nuovi leader per affrontare le innumerevoli sfide che ci si presentano. il mondo sta cambiando a livello geopolitico molto velocemente, forse molto più rapidamente di quanto non sia avvenuto in passato e quindi un messaggio fondamentale è che queste nuove leader dovremmo essere in grado di avere tutti gli strumenti efficaci e necessari per affrontare un nuovo contesto. Quindi grazie ancora Federico per la lecture, grazie a Tommaso, grazie al Rettore del Collegio e grazie a tutti voi. Buona serata. Grazie a tutti.